Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella salata allo yogurt. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt bianco intero, olio di semi di arachidi, uova, sale, lievito istantaneo per torte salate, fontina a dadini, salame a dadini e olive snocciolate tagliate a pezzetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, l'olio, il sale, le uova, lo yogurt e il lievito. E facciamo amalgamare per due minuti a velocità 5. Aggiungiamo una parte del formaggio, una parte di salame, una parte di olive. e facciamo amalgamare per 20 secondi, anti-orario, velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in una stampa a ciambella ben imburrato e infarinato. Abbiamo posizionato l'impasto in uno stampo da 24 centimetri, adesso metteremo sopra le olive, il salame e il formaggio rimasti. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella salata allo yogurt. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!